Quartieri di Queen's Park e West Castle illustra i servizi sanitari presenti nel quartiere di Station Quota. Chi vive o lavora in questa zona può trovarsi a usufruire dei vari servizi sanitari in situazioni diverse. Ci si può arrecare presso l'ambulatorio medico quando ci si sente poco bene. In altre situazioni è la sanità a arrecarsi presso il paziente, ad esempio con una visita da parte dell'infermiera o dell'assistente sanitario di zona. Oppure ci si può arrecare in ospedale per un intervento o per un'emergenza. Il Servizio Sanitario Regionale del Bedfordshire e l'Associazione Horizon Health collaborano alla progettazione e all'attuazione di tutti i servizi sanitari a livello locale. Questo documentario è stato realizzato allo scopo di illustrare come intendiamo migliorare il servizio sanitario e soprattutto cerchiamo la collaborazione dei cittadini per aiutarci a decidere come attuare questi cambiamenti. Nei mesi scorsi abbiamo consultato residenti di zona, associazioni comunitarie e altri presenti nella zona di Station Quota per sapere che esperienza hanno dei servizi sanitari. Prestando ascolto ne è emerso che i residenti di zona hanno un'opinione precisa per quanto riguarda la loro salute e i cambiamenti che vorrebbero vedere attuati nei servizi sanitari locali per aiutarli a vivere bene. Per nostro conto ci impegniamo a migliorare i servizi sanitari locali in modo che vengano incontro alle esigenze della zona incluso il modo in cui essi vengono erogati. Ad esempio vogliamo fare in modo che sia più facile prenotare una visita con il medico generico e l'infermiera specialmente per coloro che sono più vulnerabili. Vogliamo offrire una scelta e una migliore informazione in modo che il paziente abbia più voce nel decidere quando e come essere curato. Quando abbiamo chiesto quali fossero i servizi aggiuntivi da inserire nelle zone dove vivono i residenti hanno indicato tra i primi 5 i seguenti che le analisi del sangue vengano fatte in zona senza doversi recare in ospedale introduzione di servizi e attività che aiutano la salute e il benessere come palestre comunali programmi di educazione alimentare supporto per smettere di fumare e più sostegno a coloro che soffrono di problemi di salute mentale minori come ansia o depressione supporto per coloro che soffrono di malattie a lungo termine come diabete e malattie cardiache fornire servizi per la maledernità a livello locale e servizi per la salute sessuale Ci è stato anche richiesto di migliorare il sistema di prenotazione degli appuntamenti negli ambulatori e negli altri servizi sanitari Inoltre, quando usufruiscono dei servizi i residenti vogliono un aiuto a superare alcune delle barriere culturali quali il fibottacolo a lingua o la reticenza di alcuni gruppi comunitari minori a usufruire dei servizi Ci sono diversi modi in cui potremmo migliorare e allargare l'offerta di servizi sanitari locali ad esempio in un'unica struttura costruendo un centro sanitario adibito allo scopo o attraverso una serie di strutture nuove e preesistenti Non crediamo di poter fornire servizi sanitari locali ottimali senza considerare le opinioni e la conoscenza della zona di coloro che vivono a station quota per cui chiediamo agli abitanti di darci il loro parere Ci aiuterà a decidere quali servizi introdurre nella zona che a sua volta indicherà il modo in cui gli stessi servizi devono essere forniti Ci sono due modi per esprimere la propria opinione Allegando a questo DVD troverete un volantino con un questionario staccabile che potrete compilare e inviarci senza bisogno di affrancatura Coloro che dispongono di un computer con un collegamento alla rete internet potranno compilare il questionario in rete Ulteriori modalità si possono trovare tornando alla pagina del menu e selezionando Feedback Options I residenti verranno tenuti al corrente tramite la stampa locale tramite i centri sociali di zona e di quartiere e tramite i comitati comunitari L'informazione verrà anche pubblicata sul nostro sito e indicherà quali decisioni sono state prese e come le opinioni dei residenti hanno influito sulle nostre decisioni Per richiedere un questionario con la consulta in un'altra lingua o formato si può contattare Richard Longrig presso NHS Bedfordshire allo 01234 79 2639 o scrivendo all'indirizzo elettronico stationquarter.bedfordshire.nhs.uk allo 01234 79 2640